Fausto Ricci è stato un grande, un celebre, baritano viterbese che è vissuto dal 1892 al 1964. Quest'anno ricorre il 120esimo anniversario della nascita per cui organizziamo, come Tutto in Club Italiano, io che qui rappresento a Viterbo, un omaggio a Fausto Ricci. Ci se lo merita perché soprattutto negli anni tra il 1916 e il 1940 effettivamente ha fatto parlare Viterbo in tutto il mondo. Infatti Fausto Ricci ha calcato le scene, non solo le più grandi scene italiane, il Costanzi, la Scala di Milano, il Reggio di Torino, a Parma, a Bologna, ma anche in molte capitali europee e addirittura anche in Sud America. Infatti lui è stato in Sud America credo dal 1922 al 1924 dove si è esibito addirittura al colonne di Buenos Aires. Dunque questo convegno che vedrà la partecipazione di un baritano dei nostri giorni che si chiama Alfonso Antoniozzi il quale parlerà proprio lui dal baritano di oggi del baritano di ieri.